Sembrerebbe che ad affiancare nella condizione di mondiale questo programma su Canale 5 oltre a Nicola Savino ci sarebbe anche lei la bellissima Belen Rodriguez Una settimana di tronaca rosi infatti avrebbe fatto sapere che la ragazza argentina andrà in onda con la trasmissione calcistica pop dopo ogni mondiale che si cerebra in Russia Sarebbe stata saltata l'ipotesi dunque che vedeva Belen con l'utrice del GF15 La ragazza infatti sarebbe stata rimpiazzata dalla bravissima Barbara Russo Il ritorno in tv di Belen quindi sarebbe atteso su Mediaset anche se il contratto non sarebbe ancora stato filmato Oltre a Savino alla Rodriguez nel programma in questione potrebbero esserci anche la Jalapas Marco Santin quindi Carlo Taranto e Giorgio Gerarducci che fanno proprio del trio comico Chiamato Jalapas che anni e anni fa si diventiva a commentare ciò che accadeva Le diverse puntate del grande fratello dell'isola di Favus Ti ringrazio per l'ascolto questo dunque sarebbe quanto È bene utilizzare il condizionale perché ancora non si hanno certezze Ancora non si hanno sicurezza di sorta E quindi nasce solo per questo link qua Fatemi sapere cosa ne pensate Un saluto e al prossimo video